Vanno avanti a ritmo serrato le indagini in relazione al plico con all'interno due buste con sei proiettili recapitato ieri nella sede romana di strada dei parchi concessionaria delle autostrade a 24 ed a 25. La busta di grandi dimensioni ha subito insospettito gli addetti alla reception per le modalità di confezionamento e la pesantezza del plico. Gli addetti alla sicurezza hanno dunque chiamato la polizia che ha affidato l'apertura della busta ad un artificiere all'interno come detto c'erano sei proiettili e una lettera indirizzata al vice presidente di strada dei parchi Mauro Fabris con insulti e minacce estese anche al presidente della società Carlo Toto. La procura di Roma ha immediatamente secretato il documento e aperto un'inchiesta contro i gnoti per il reato di minacce. La società al momento non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali ma negli ambienti di via Bona non si esclude che il gesto possa essere ricollegato al clima di allarme destato dalla sicurezza delle due autostrade. Da quanto si è potuto apprendere nei messaggi di insulti sarebbero stati fatti dei riferimenti al programma televisivo Le Iene sulla sicurezza dei viadotti nei quali sarebbero stati invitati l'imprenditore Toto e l'ex parlamentare Fabris a non andare più al barbiere e al ristorante. In particolare Toto sarebbe stato anche esortato a pagare gli interventi di messa in sicurezza. Il tutto mentre continua il braccio di ferro fra strada dei parchi e ministero per i 192 milioni inseriti nel decreto Genova che dovrebbero servire a migliorare la staticità dei viadotti ma non ancora disponibili. La strada dei parchi fanno sapere che dai conteggi fatti in questo periodo si sono registrati 7.000 mezzi in meno al giorno sulle autostrade abruzzesi e se il trend dovesse restare lo stesso anche il prossimo anno strada dei parchi ha calcolato che saranno più di 2 milioni e mezzo le auto che avranno rinunciato ad utilizzare i due tronchi autostradali. Un duro colpo per le casse della società che dal primo di novembre sta facendo i conti anche con il blocco di tre mesi degli aumenti dei pedaggi disposti il primo gennaio 2018 per effetto dell'intesa con il ministero dei trasporti. Ma sarebbe anche un duro colpo per la regione come ha sottolineato il presidente vicario Giovanni Lolli che ha chiesto a tutti gli attori coinvolti istituzionali e non più senso di responsabilità nella comunicazione.